C'è una farmacia ad Ostia che è sempre aperta, tutti i giorni, domeniche comprese e nei giorni festivi, anche a Natale. È la più grande fornita del nostro territorio, è la farmacia delle Azzorre. Venire qui è sempre un'esperienza unica. Alla farmacia delle Azzorre tutti sono molto disponibili e preparati. Ogni volta che entro mi ascoltano attentamente e poi mi aiutano e confortano, trovando sempre una soluzione al mio problema. Mi sorridono e già questo mi fa sentire meglio. Ci prendiamo cura del tuo benessere. Trovo tutto per me e per la mia famiglia e al miglior prezzo. Qui le offerte sono tante e su più di mille prodotti a prezzi già scontatissimi. La salute trova un nuovo spazio. C'è un reparto di medicina naturale e di prodotti preparati nel laboratorio galenico adatti ad ogni tipo di esigenza. I farmacisti mi assistono sempre spiegandomi quando e come usarli correttamente, cercando ove possibile di non ricorrere ai farmaci. Per la salute abbiamo un talento naturale. All'interno della farmacia c'è un reparto di ottica professionale dove misurare la vista. Con una strumentazione diagnostica digitale di ultima generazione, l'ottico optometrista ha verificato il mio visus e con lenti oftalmiche adatte abbiamo corretto il mio difetto visivo. Ora ci vedo perfettamente. le montature sono molto eleganti, le lenti di alta qualità ed il prezzo imbattibile. Ho potuto scegliere fra le oltre 300 montature disponibili a prezzi incredibili. Il secondo paio di occhiali per leggere da vicino l'ho avuto addirittura in omaggio. Ora non ho più quei fastidiosi mal di testa serali. Guidare e lavorare è un altro mondo. E vedrai tutto da un'altra prospettiva. Ho trovato un reparto di estetica per mia figlia direttamente all'interno della farmacia. Prima delle vacanze ha voluto regalarsi alcuni trattamenti benessere. In poche sedute i risultati sono stati ottimi e misurabili. La presoterapia, un massaggio continuo e profondo, è stato utilissimo contro la ritenzione idrica ed efficace contro la cellulite. Risultato? gambe leggere e sicuramente più magre. Sono bastati pochissimi trattamenti professionali per ringiovanire e distendere il viso. Il modo migliore per acquistare in salute e bellezza. Vieni a scoprire cosa può fare per te la farmacia delle azzorre. Con la Fidelity Card accumuli punti e ricevi premi e sconti. E per chi ha difficoltà a raggiungerci, consegniamo anche a domicilio. Farmacia delle azzorre. Perché la tua salute viene prima di tutto.